Uno dei primi atti che chiederemo di adottare alla nuova giunta regionale d'Amico se avremo il consenso degli elettori è la rimozione per giusta causa del direttore generale dell'azienda sanitaria locale 1, Ferdinando Romano. Il coordinatore regionale di Demos, Abruzzo, Alfonso D'Alfonso, interviene così sul tema della sanità nella provincia dell'Aquila. D'Alfonso vorrebbe licenziare Romano perché il direttore generale, essendo una figura tecnica anche se indicata dalla politica, non deve permettersi di giocare a tutto campo intervenendo a difesa della giunta regionale e dell'assessore alla sanità, opponendosi impunemente alle tesi politiche del candidato di centro-sinistra Luciano D'Amico. Il coordinatore regionale di Demos sostiene che Romano è pagato per interessarsi della salute dei cittadini e di gestire al meglio l'erogazione dei servizi sanitari, lasciando ad altri il confronto politico. D'Alfonso accusa Romano di malagestione con enormi disagi imposti ai cittadini e a tutto il personale e di tagli indiscriminati perché quello che conta è diminuire la spesa, non gli sprechi, purché si abbia il premio di risultato. D'Alfonso non crede che sia una coincidenza che sia le assunzioni dei 30 giovani medici che la nomina dei 20 primari avvengano durante la campagna elettorale, un atto che lascia intendere un condizionamento e una mancanza di rispetto per i partecipanti alla prova. Saranno attentamente verificate tutte le criticità a partire dal furto dei dati fino al calo della mobilità attiva per chiudere il prima possibile questa brutta esperienza e ridare all'azienda sanitaria locale Aquilana un direttore generale, espressione della nostra terra che non faccia più rimpiangere, l'ottima gestione del dottor Giancarlo Silveri, conclude il coordinatore regionale Demos Abruzzo, Alfonso D'Alfonso.